C'è solo un Presidente, un Presidente, un Presidente, un Presidente, un Presidente, un Presidente, un Presidente! Poi ci sono venuto da dirigente per 15 anni e adesso sì, oggi grazie al Consiglio di Amministrazione del Crotone Calcio ci vengo in veste di Presidente. E' molto emozionante, molto emozionante. Esternare il mio affetto verso questo pubblico perché sta dimostrando di avere veramente a cuore il Crotone Calcio in questo momento. Io, essendo crotonese, logicamente conosco bene le caratteristiche dei nostri concittadini. Io so che i crotonesi quando non sentono una cosa dentro non la fanno, per cui ho sentito affetto vero quella sera alla presentazione e per questo voglio ringraziare tutti quelli che erano lì perché veramente credono al Crotone Calcio, credono a questa dirigenza. Per cui un grande ringraziamento a tutti e un ringraziamento anche alla stampa locale. La stampa locale che è stata vicina come non mai in quest'anno difficile alla dirigenza, ringrazio anche loro perché sono stati importanti e determinanti. Per cui un grande ringraziamento a tutti e un ringraziamento a tutti e un ringraziamento a tutti. Per cui un grande ringraziamento a tutti e un ringraziamento a tutti. E' questo solo un presidente, solo un presidente, solo un presidente.